eccoci pronti per un'altra intervista riempiresti apposta una casa di formiche sì sarebbe un bel divertimento però mi sembra un'impresa difficilissima quasi come non so quelle cose tipo cercare lago in un pagliaio il ramarro marrone come torna a casa è una bella domanda tra l'altro il ramarro marrone verde torna a casa contento mao 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 che cosa significa? mi viene in mente un gatto un gatto un verso tenero bella questa che domanda è? il mostro che c'è in te di che colore è? il mostro che c'è in me è nero come mai? non lo so però il nero è un colore di oscurità completa cosa diresti a Shakespeare se lo conoscessi in un bar? oh mi chiederei forse gli farei tante domande tra cui gli chiederei se la sua creatività è pericolosa quando lavi i piatti poi li asciughi no li metto a scolare mi sembra una perdita di tempo a asciugare i piatti però quando l'ho fatto in realtà ha anche di rilassante in un certo senso quando devi affrontare certi draghi sputifuoco anche tu o vai di acqua molto bella questa credo di andare di acqua perché di natura sono abbastanza abbastanza pacifico e faccio fatica a rispondere al fuoco col fuoco anche se a volte bisognerebbe farlo bellissimo cosa colpisci col tuo raggio lato? eh non saprei non lo so mi viene da dire che preferisco essere colpito piuttosto che colpire però cosa ti danno i motori? cosa vuol dire cosa ti danno i motori? ma io ho pensato a questa domanda perché siamo in una città piena di macchine la città delle mille miglia quindi ho pensato ci sono persone a cui evidentemente i motori danno tanto e quindi sai qua c'è molto la mentalità dell'auto bella eccetera no? però sai magari non è per tutti così ognuno il motore lo vede in maniera diversa dunque innanzitutto il motore dunque tutti gli anni devi pagare l'assicurazione il bollo e poi un sacco di euro in benzina io tendo a usare pochissimo l'auto ma in realtà mi sembra di spenderci comunque troppo ce l'hai comunque la macchina? sì ho l'auto quindi esiste un motore però c'è un motore nella tua vita? sì tra l'altro la mia auto ha anche un nome però adesso non lo dirò no no però stavo pensando al motore anche come non per forza un motore di un'auto ma come un'energia sì e quindi quella no quella per fortuna c'è ed è gratis semaforo rosso o semaforo verde? sempre semaforo verde perché semaforo rosso è un divieto e non mi piacciono i divieti non sono mai stato in quelle zone in cui non c'è una non ci sono delle regole della strada precise mi hanno parlato di zone tipo in India dove non ci sono delle regole della strada precise e le persone riescono a in qualche modo a a gestire tra di loro il traffico questa cosa mi affascina molto ok ti sei mai chiesto se Zeus farebbe sesso con te e se lo facesse cosa gli risponderesti? allora no non me lo sono mai chiesto se lo facesse cosa gli rispondi? cioè io gli chiedo se vuoi fare sesso con me? e lui mi dice no lui vuole fare sesso con te ah ok tu cosa gli rispondi? ah ok sì assolutamente vabbè scusa fare sesso con un dio l'esperienza più assoluta probabilmente anche se è un po' come dire è un po' narcisistica come cosa però sì sì forse avrebbe il pisello enorme ha più utilità sociale un netturbino o un astronauta? assolutamente un netturbino non mi piace l'esplorazione spaziale quindi per me è completamente inutile perché penso che mi piace rimanere dentro un limite di scoperta in qualche modo vediamo da cosa? da cosa deduci che il tuo intestino sia tenue o crasso? beh le scoreggie eh questi nomi comuni delle parti anatomiche sono carini quindi la parola crasso è particolare però è veramente dura cioè te lo fa sembrare una cosa brutta invece è bello anche il cestino grasso e poi questo è importante no? perché è quello che c'è prima della cacca mi sembra quindi alla fine è stra bello non è una roba brutta quindi ti ringrazio moltissimo grazie a te prego